società vogliamo e poi scegliere di conseguenza. E allora dico che quello che noi dobbiamo fare tutti è uno sforzo di prendere posizione. Si dice a volte, io per tanti anni sono stata terza in una posizione delle Nazioni Unite, noi non ci occupiamo di politica, vero, ma ci occupiamo di politica. Noi, nel senso voi, non vi occupate della politica partitica, ma nella vostra azione c'è politica perché c'è una visione di società e quella visione di società deve essere poi tradotta in qualcosa di concreto. Se non c'è questo legame, se vi chiamate fuori, rimangono solo, come voglio dire, delle aspirazioni, dei principi. Quindi per concludere perché mi stanno facendo insegnarci, quello che voglio dire è non tiratevi fuori, siate parte attiva, integrante della società, cercate di influenzare le grandi decisioni, le scelte, perché è solo così che potremo raddrizzare la rotta, è solo così. Questo è lo spirito con cui io ho accettato di fare questa avventura, di entrare in politica. Ho accettato questo perché credo che sia doveroso mettersi al servizio del proprio Paese quando il proprio Paese vive un momento difficile. Questo è un momento difficile, ma dai momenti difficili nascono grandi cose. E quindi questo è un Paese che ha superato ben altre difficoltà. Io sono fiduciosa che noi sapremo uscire da questo tunnel, ma dobbiamo tutti lavorare duro per unire le forze, perché è solo nello stare insieme che c'è la risposta, nell'unire le forze, nel fare sistema che noi potremo farcela. Vi ringrazio.